Alessio Fioravanti, coach della polioposti Cipir Domodossola, domenica convinciano i play-off, avversario Casale e avversario durissimo? Avversario durissimo, avversario da non sottovalutare ma siamo pronti e consapevoli che è arrivato per un momento che conta la stagione e quindi vogliamo andare fino in fondo e che ci sia Casale, Fossano, Ciriano, a noi non ci cambia niente perché l'obiettivo è quello di vincere, quindi va bene così. Mancano due o tre giorni, la squadra come sta? Oggi allenamento oppure ancora domani, giusto? Sì, oggi e domani abbiamo gli ultimi due allenamenti per rifinire le cose che abbiamo preparato, la squadra sta bene, tutte errorabili e insomma abbiamo voluto giocare perché queste due settimane in pausa si fanno sentire, quindi l'adrenalina sta crescendo e non vedi allora di essere domenica alle 18. Ecco, dai l'appuntamento, domenica quindi il primo maggio alle 18, tutti al palazzetto? Tutti al palazzetto a sostenerci perché abbiamo bisogno dei nostri tifosi per far sì che ci sia il cosiddetto uomo in più. Grazie.